Che viaggio interiore e non solo interiore è stato fare questo film? Non interiore è la possibilità di andare a Cuba, passare un po' di tempo in Havana e capire un po' di più come si sente la gente, capire un po' di più quella cultura. La gente lì è molto speciale, molto carigliosa, non so come si dice quella parola in italiano, carina, molto generosa. Allora abbiamo tanti amici nuovi lì, perché veramente è gente molto buona. È un po' strano quando, perché io devo fare tante domande quando sto preparando un ruolo così e ancora senti che è un po' difficile per loro di parlare della sua situazione. Si sono contenti con la situazione come se non lo sono. Ancora c'è un po' di... non si sente molta libertà all'ora di parlare. E' così, è quello che ho sentito io nel viaggio. E tu hai sentito che questo posto è un paradiso o è rispetto alla... la differenza rispetto al resto del mondo, ecco? Rispetto alle persone, ai suoi valori, la generosità, il spirito che hanno, la passione per la vita. Con tante cose sì, ma ci sono altre cose dove non penso che si può definire come un paradiso. Una delle tue paure riguarda l'elettronica che coinvolge le vite. Ecco, a Cuba, da questo punto di vista, è un po' come il resto del mondo negli anni 90. C'è meno... Sì, sì, quello che vedevo io, vedevo i bambini che... non bambini, ma adolescenti, che tanti ancora non hanno un telefono, no? Quello è buono, ma loro... ma quello si rovina velocemente, perché da qua a due anni quello è anche lì, quel ritmo sarà anche lì. Penso che la purezza, no? Nelle occhi di tanti adolescenti che io ho visto lì, forse anche perché ancora non hanno stato un po' intossicati per questa... o la tremenda di... dell'uso che noi diamo alla tecnologia. Come eri da adolescente tu? E era molto... sempre volevo essere con la gente più grande, ma volevo lavorare e studiare, non mi piaceva molto uscire o bere, non avevo nessun interesse nelle droghe, niente che mi poteva fare male, perché... Non mi piace la sensazione di perdere controllo, allora sono stata fortunata con quello, no? Perché... Sì, come teenager non... penso che non ho avuto molto pericolo, perché volevo realizzare questo sogno, volevo lavorare come attrice. Bailavo tante ore ogni giorno e quattro, forse quattro ore ogni giorno facevo ballet, classico. E anche... penso che per... per bambini e per adolescenti essere in contatto con un sport ti può salvare di tanti problemi, perché per me è stato molto importante il mio rapporto con la danza. C'è una caratteristica che mi pare che tu abbia e che forse hai avuto anche fin da giovane, cioè sei una persona che prende posizione e dà delle idee, diciamo, dei valori in cui crede in modo molto deciso e non... che non possono essere venduti, ecco. Non so se è chiara la domanda. Valori? Sì. Valori che io penso che vengono dalla famiglia, no? E quello che... quello lo prendo come un complimento. Sì, lo è. Grazie perché per me... quello viene del... di come io sono... come sono cresciuta con la mia famiglia. Ehm... loro dovevano lavorare molto, molto duro per... per portare di mangiare a casa, no? E quello che ho visto tutta la mia vita. E il valore di loro hanno diventato i miei e sicuramente quelli dei miei figli. Ehm... anche perché mio marito viene... la sua infanzia è stata anche molto simile, no? Non... non avevamo una situazione di... non so come spiegarlo, nemmeno in italiano, è molto difficile. Ma... penso che... se tu senti questi valori, per me è un complimento, allora ti ringrazio. Ma arriva di... questo arriva di... la mia madre, mio padre, la nonna e tutti loro, no? Come... l'educazione che loro mi hanno dato. Quanto è importante avere fiducia, credere nel proprio compagno? Una fiducia etica, professionale, oltre che personale? Non intendo... Sì, sì, sì. È la cosa più importante in ogni rapporto, no? Anche con un fratello, con un marito, con un amico, con un'amica... Io penso che... è avere la fede e la confianza, no? E che rapporto hai con la mostra di Venezia? La prima volta che sono stata qui... ero 16 anni... no, 18 anni, perché aveva uscito già jamon jamon, prosciutto, prosciutto. Ehm... allora... ho tanti ricordi, anche la prima volta sono stata a questo albergo. E penso che... quello... ha successo 27 anni fa. È tanto tempo.